Cari amici un saluto da Nat Russo. Oggi è il 7 settembre. Nel 1533 Anna Bolena, regina d'Inghilterra, dà alla luce la futura Elisabetta I. Anna Bolena è stata una regina consorte d'Inghilterra e Irlanda dal 1533 al 1536 come seconda moglie di Enrico VIII Tudor. Il suo matrimonio con Enrico VIII fu causa di considerevoli sconvolgimenti politici e religiosi che diedero origine allo scisma anglicano. 1776, primo attacco sottomarino della storia. Il sommergibile americano Tartle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell'ammiraglia britannica Eagle, dell'ammiraglio Richard Hovel nel porto di New York. 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. E siamo al 1901. Finisce ufficialmente in Cina la ribellione dei Boxer con la firma del protocollo dei Boxer. La ribellione dei Boxer fu una ribellione sollevata in Cina da un gran numero di organizzazioni cinesi popolari contro l'influenza straniera colonialista. Queste associazioni e organizzazioni erano riunite con il nome di Yeu Town, cioè gruppi di autodifesa dei villaggi della giustizia e della Concordia. La rivolta ebbe come base sociale molte scuole di Kung Fu, identificate come scuole di pugilato, che inizialmente utilizzarono il nome di Pugidi della giustizia e della Concordia e che i missionari nei loro racconti resero soltanto come Boxer. Liberamente ispirato alla vicenda, è il film 55 giorni a Pichino, girato nel 1963 da Nicolas Ray ed interpretato tra gli altri da David Niven, Charlotte Aston e Avagard. Nel 1911 il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché è sospettato di avere rubato la Bonnalisa dal Museo del Louvre. E nel 1997 avviene il primo volo di prova dell'FA22 Raptor. Questo aereo è un caccia da superiorità aerea con caratteristiche STEL di costruzione statunitense, talvolta classificato dallo stesso Dipartimento della Difesa americano come veivolo da supremazia aerea. Per quest'oggi è tutto, un saluto da Nat Russo, a presto.